Eccoci, è tutto pronto per il One TV Show, la seconda edizione che sta per partire, da metà gennaio partiamo, vi terremo compagnia fino alla fine di maggio, tanti ospiti come sempre, rispetto all'anno scorso ci siamo allungati perché ogni puntata durerà quasi un'ora sui 55 minuti, quindi insomma da metà gennaio il mercoledì sera alle 21 su One TV canale 112 io vi aspetto numerosi, stop al televoto, ma questa è una cosa che volevo dire perché poi andremo a Sanremo con One TV, vabbè ve ne parlerò più avanti, quindi da metà gennaio torna il One TV Show il mercoledì sera alle 21 su One TV canale 112, vi aspetto.